E sono anni che come ordine collaboriamo con AES per la costruzione della settimana della bioarchitettura della domotica. Diciamo che l'ambito di maggior interesse per noi come architetti è sicuramente quello della bioarchitettura. È un tema che ci vede coinvolti nella sua trasversalità, quindi dai temi pianificatori a quelli più a scale edilizia. Quest'anno la tematica più affrontata e per noi davvero di grande interesse è quella della rigenerazione declinata nelle sue diverse scale, da quella edilizia a quella più urbanistica e la giornata di domani appunto ci darà un quadro molto dettagliato di quello che è il tema della rigenerazione soprattutto dei comparti industriali dismessi e in via di dismissione. La tematica del riuso è tra l'altro una tematica che noi conosciamo bene anche a livello nazionale perché la stiamo portando avanti come architetti italiani ormai da tempo, da almeno quattro anni. Abbiamo costruito un tavolo che ha al suo interno tutti gli stakeholders che entrano proprio nella filiera della rigenerazione, quindi ance, anci, legambiente ed altri, proprio perché la rigenerazione è un tema che va affrontato nella sua trasversalità di interesse e di specializzazione di tipo tecnico, quindi è importante per avere poi una garanzia di risultato che sia un risultato di qualità nell'approccio, quindi un'azione che deve essere continuata e portata avanti con forza perché credo che in questo momento sia l'unico approccio possibile che ci resta proprio come tecnici ma anche come cittadini per noi e per il futuro della nostra nazione. Grazie.